Turismo a Piacenza, calano i contatti, crescono le presenze. A un anno di distanza dal potenziamento delle iniziative turistiche, con l'ampliamento degli orari del punto di accoglienza per i visitatori di Piazzetta delle Grida e l'introduzione di nuovi prodotti di merchandising, abbiamo fatto il bilancio con l'assessore al turismo Tiziano Albasi, che introduce i dati spiegando che non sono esaustivi perché riferiti al primo semestre, mentre i periodi di maggior affluenza turistica vanno da marzo a luglio, ma anche dalla seconda metà di agosto a ottobre oltre al mese di dicembre. I dati evidenziano nel primo semestre gennaio-giugno 2016 rispetto allo scorso anno un aumento degli arrivi e delle presenze e questo significa che sta aumentando l'attrattività della città. È sicuramente un dato positivo che va coltivato, va ampliato. Sicuramente anche per quanto concerne i contatti con l'ufficio IAT, la distribuzione di materiale promozionale e quant'altro, si vede un andamento ondivago. La motivazione, spiega Albasi, è dovuta al crescente numero dei cosiddetti visitatori, ovvero turisti che si informano preventivamente tramite siti internet e app e una volta giunti in città non hanno più la necessità di documentarsi presso uno sportello turistico. La conferma arriva dal numero di contatti allo sportello IAT, passati da 6 a 4 mila e dal numero di mappe scese da oltre 8 mila a poco più di 2 mila. Sia perché cerca esperienze autentiche, sia perché va a ridefinire il suo ruolo, sempre più attivo anche in fasi che tradizionalmente invece erano più passive, cioè legate alla raccolta di informazioni e all'organizzazione del viaggio. L'evoluzione del turista tipo ha indotto la regione Emilia-Romagna a intraprendere una riorganizzazione dell'assetto turistico territoriale che prevede la destinazione turistica Emilia che si estende da Piacenza a Parma fino a Reggio Emilia. Di conseguenza è cambiato anche lo IAT, è cambiato sia nel ruolo che si sta ritagliando, sempre orientato alla domanda, ma sempre più orientato anche all'offerta. Tant'è vero che l'ufficio IAT di Piacenza ha messo a punto un servizio di invio di slide che raccolgono tutti gli eventi del mese successivo e che invia sia a tutti gli operatori turistici, in particolar modo quelli ricettivi, ma anche alle associazioni di categoria.